Sei un imprenditore che opera nel settore delle energie rinnovabili? Allora ascolta. Ciao, sono Martina Caliano di Enterprise Europe Network Italia ed ecco tre cose che noi come rete possiamo fare per te. Primo, se offri soluzioni di risparmio energetico o di energia rinnovabile, ti metteremo in contatto con piccole imprese, industrie ad alta intensità energetica e comuni che ne hanno davvero bisogno. Secondo, se hai bisogno di idee intelligenti per risparmiare energia e diventare più efficiente, ti presenteremo i partner giusti in tutta Europa. E terzo, hai bisogno di finanziamenti per la tua transizione energetica? I nostri esperti ti guideranno nella ricerca delle migliori opportunità finanziarie europee. Ti siamo vicini e siamo pronti ad aiutarti. Mettiamoci in contatto.